Ringrazio Cittadinanza Attiva per questo invito, è importante che gli screening neonatali estesi entrano definitivamente nei LEA anche in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale, per cui aderisco conventamente a questa iniziativa, a questa giornata di riflessione. Il Lazio è stato tra le regioni ad avere anche anticipato nel 2019, ad esempio lo screening neonatale sulla SMA assieme alla Toscana, peraltro ha prodotto degli ottimi risultati per quanto riguarda l'individuazione precoce dell'insorgenza della patologia ed è importante adesso andare velocemente sia per quanto riguarda l'individuazione del sistema tariffario sia per quanto riguarda una omogeneizzazione sull'intero territorio nazionale. Concentrarsi sui primi mille giorni di vita è un elemento importante e determinante per il livello della qualità di una società per il livello del benessere, individuare precocemente malattie che una volta in sorte possono portare dei danni irreparabili è particolarmente importante. Ecco perché io credo che vada portata avanti questa iniziativa, va individuato anche un corretto monitoraggio e soprattutto ridotto il livello di diseguaglianze tra le regioni italiane.